Ho vissuto alcune polemiche della tifoseria nei miei confronti, nei tempi, come posso dire, chiave di questa vicenda, le ho vissute come una sorta di ricatto, dal punto di vista dell'immagine, nei miei confronti, dove io non avessi in qualche modo spinto, incoraggiato altri all'acquisto del bar. Ora io non posso svolgere questo ruolo, non lo svolgerei neanche sotto la minaccia di una pistola, figuriamoci se quattro striscioni possono indurmi a una cosa del genere. Michele Emiliano è stanco di subire attacchi, sono sindaco di Bari, dice, non posso risolvere i problemi della società di calcio. In una conferenza stampa convocata d'urgenza a Palazzo di Città, il sindaco Emiliano ci tiene a chiarire il suo ruolo nella vicenda, dichiarandosi estraneo a qualsiasi personale interessamento nella ricerca di una cordata di imprenditori disposti a rilevare la società, pronto a fare da mediatore quindi per ristabilire trasparenza e verità, dice, ma a patto che i Matarrese non costringano il Bari a scomparire dalla Serie B. Per la prima volta infatti, dopo un primo tam-tam sul web, lancia pubblicamente un appello interpretando a suo dire il pensiero dei tifosi baresi. I Matarrese paghino gli stipendi entro il 15 febbraio, ricapitalizzando la società e salvando la squadra. E se non fossero economicamente in grado di farlo? Io non credo che ci siano alternative di sorta, nel senso che credo che in questo caso, anche per una questione di stile, debba essere la stessa società che deve rivolgersi al tribunale e deve chiedere, come posso dire, deve presentare il suo stato di insolvenza, per cui si tratterebbe di andare in tribunale a chiedere che il tribunale dichiari il fallimento del Bari per poter evitare in questo caso la scomparsa della società e quindi la revoca del titolo sportivo. Un'autonoma richiesta di fallimento da parte di una società che Emiliano definisce onesta e corretta per ben 35 anni, significherebbe salvare l'immagine della città, ma non solo. Il danno fondamentale temuto, quello della cosiddetta retrocessione, che poi in realtà è la revoca del titolo sportivo e eventualmente la sua riconcessione a diverso soggetto residente nel luogo attraverso il sindaco, con uno scalare ovviamente fino alla C2 se ho capito bene, potrebbe essere evitato.